Festa Romagnola sabato scorso a Roseto Valfortore per l'intitolazione del nuovo parco giochi della scuola a Raul Casadei. Un omaggio a Redelliscio che agli inizi degli anni 60 a Roseto, dove era arrivato come insegnante della scuola elementare, aveva dato vita alla sua prima orchestra insieme ad alcuni ragazzi del paese. Per l'occasione a Roseto è arrivato il figlio, Mirko Casadei, con alcuni musicisti della sua big band, l'orchestra con cui continua la grande tradizione musicale di famiglia. A fare gli onori di casa è stata la sindaca Lucilla Parisi, congiunta e consiglieri, la dirigente scolastica Diana Riccelli, insegnanti, alunni e tanta gente del paese. Il legame con Roseto non l'ha mai spezzato perché ha comunque continuato a sentirsi con gli amici e quindi per me è stato semplice. Quando ho invitato la famiglia Mirko con la band hanno avuto subito piacere a venire perché anche lui voleva conoscere i luoghi dove il papà era vissuto e gli amici e le testimonianze che poi ci sono state e abbiamo ascoltato stamattina. È una grande emozione devo dire per me. Tutto è cominciato qui, è cominciata la storia della famiglia Casadei perché Raul ha incontrato Pina, la mia mamma napoletana, facevano gli insegnanti tutti e due qua a Roseto e anche la musica dell'orchestra Casadei è nata qui perché Raul cominciava a scrivere le canzoni sia per lo zio secondo Casadei che era il fondatore dell'orchestra ma anche per il suo futuro. E poi il rapporto con i bambini di Roseto con la scuola, era un maestro moderno, andava in classe con la chitarra, si è inserito subito in questa comunità, si è creato questo gruppo di amici, hanno messo su questa band, questi cinque personaggi storici per Roseto e io tornando qui mi sono reso conto di questo rapporto meraviglioso che aveva appunto con i rosetani quindi grazie veramente di queste belle testimonianze. Un tuffo nel passato attraverso la proiezione di foto raccolte da Nicola Chiechi a cui si deve l'idea di rendere omaggio a Raul e i ricordi di quegli anni indimenticabili raccontati da due protagonisti della storica band, Matilde Lapenna e Stefano De Cesare. E siccome già mi conoscevo in paese come brava nel canto e allora lui mi voleva ascoltare diventammo amici, amici con l'amicizia che poi continuava nel lavoro e questo lavoro era comunato da un'unica passione cioè il canto e la musica. Ebbene erano i brani del momento anni sessanta, sessanta. Avevamo formato una piccola orchestrina, l'abbiamo inserito subito nel nostro complesso e lui era un showman veramente straordinario. Raul Casadea ci ha rinciovanito pure a noi perché noi non conoscevamo ancora la chitarra elettrica, la chitarra elettronica. Raul che ha figli con la chitarra elettronica ha amplificato tutto il nostro piccolo complesso. Noi eravamo giovani, ognuno prende la strada sua e si è abbandonato, però io a 90 anni vado a suonare ancora con le band e questo forse mi allunga la vita la musica. E viva il loro seno, e viva il Sancho del Reino.